Andiamo a Vico e Quenze questa mattina dove dal 30 giugno al 7 luglio si terrà il Social World Film Festival 2024, mostra internazionale del cinema sociale, un festival che potrebbe davvero essere considerato come momento di critica e aggregazione culturale e sociale attraverso la settima arte. Siamo collegati questa mattina con Gennaro Bianco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, edizione numero 14 per il Social World Film Festival, come e perché nasce questo momento di aggregazione all'ombra della settima arte? Allora, diciamo che nasce quasi 14 anni fa da un'esigenza del regista Giuseppe Alessio Nuzzo di creare un festival a misura di regista, perché solitamente i festival, quelli che conosciamo, quelli da più famosi, quelli da più importanti, danno spazio alle grandi produzioni, ai grandi film e si sentiva l'esigenza di creare un festival pensato per i giovani e quindi giovani autori, giovani cineasti e attraverso le masterclass workshop che si tengono durante questi sette giorni e si pensa ovviamente al futuro del cinema e dei giovani cineasti, ma con uno sguardo al passato attraverso gli omaggi ai mostri sacri del cinema italiano e negli anni ne sono passati tantissimi al Social World Film Festival, quindi con uno sguardo al passato ma occhio al futuro. Mi fai qualche nome di mostri sacri di cui parlavi, Jenny? Eh, ce ne sono stati tanti, da Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Luis Bakalov, sono passati tanti dal Social World Film Festival, poi c'è questa bellissima usanza che loro devono imprimere la loro firma in bronzo nella Wall of Fame, poi Stefania Sandrelli, Silvio Orlando, pensate che Claudia Cardinale che è la, diciamo così, la madrina d'eccezione del Social World Film Festival, se la disse che era il festival più bello del mondo, proprio perché lei si era trovata in questa accoglienza meravigliosa, a Vica e Quenze, perché vi lascio immaginare che oltre ad essere una festa del cinema, è anche una festa dell'arte in generale, perché in una location del genere è tutto più bello, come accade magari a Venezia, come accade a Cannes, che sono i luoghi che fanno anche da protagonisti, oltre al cinema ovviamente. Stiamo vedendo anche delle immagini d'archivio, repertorio, tratte appunto anche dal vostro canale YouTube, beh, dei posti meravigliosi, quindi poi lo sfondo, la scenografia di Vico e Quenze, è bellissima, è naturalmente eccezionale, insomma. Ogni anno scegliete un tema, ogni anno c'è una dedica, quest'anno in modo particolare ad una grande attrice che ci ha lasciati. Certo, questa edizione è dedicata a Sandra Milo, che è recentemente scomparsa e verrà omaggiata in tutti i modi, ovviamente nella locandina, nelle copertine, e ci sarà una retrospettiva a cura di Raiteche, tra interviste a Federico Fellini, la consigna del David di Donatello, backstage di set, e poi ci sarà anche una mostra fotografica, in collaborazione col Centro Sperimentale di Cinematografia, dove ci saranno scatti dei suoi film più famosi, come ad esempio 8 e mezzo, Giulietta degli Spiriti, appunto di Fellini, lei che era la musa di Fellini, non potevamo che omaggiarla così, e poi c'è anche un ricordo della sua vita, perché lei venne in visita a Big Quenze nel 2019 per la presentazione del libro Il Corpo e l'Anima. Allora, Gennaro, ne parlavi anche prima, parlavi di Masterclass al Social World Film Festival, negli anni davvero sono state decine, appunto, questo, chiamiamo Masterclass, questo incontro tra grandi registi e giovani, persone interessate appunto a conoscere l'arte cinematografica, parliamo di Abel Ferrara, Stefano Accorsi, appunto citavi Claudia Cardinale, Ornella Muti, Silvio Orlando. Quest'anno c'è grande attesa per un regista che con il suo ultimo film ci ha commosso e anche sbalordito? Certo, quest'anno ci sarà Matteo Garrone, c'è da dire che ci sono ovviamente queste Masterclass pensate per i giovani, magari ne parliamo dopo, in generale ci sarà Garrone che terrà una Masterclass gratuita per i giovani e la sera in Arena Fellini sarà proiettato il film candidato all'Oscar Io Capitano e verrà premiato come film sociale dell'anno. E ovviamente, come vi dicevo, anche Garrone imprimerà in argilla la sua firma che poi verrà tramutata in bronzo. E chiaramente poi prima di tutto ciò lui terrà una Masterclass con i giovani perché ricordiamolo che i giovani studenti dai 10 ai 35 anni provenienti da tutte le regioni d'Italia possono tra l'altro ancora candidarsi e prendere parte a tutte le attività dedicate ai giovani. Quindi la giuria, possono essere parte della giuria del Social World Film Festival, possono partecipare a Masterclass e workshop totalmente gratuite, quindi è un'esperienza unica e imperdibile. E infatti appunto parlavi di questo importante coinvolgimento dei giovani Gennaro e poi mi viene in mente anche il Giffoni Film Festival, quindi la campagna davvero crea questi momenti di aggregazione ormai da anni, questi momenti di coinvolgimento che vedono i bambini nel caso del Giffoni ma anche i giovani protagonisti. Vuoi segnalarci qualche novità di questa edizione 2024? Allora, di novità ce ne sono tante. Considerate che oltre alla programmazione dell'arena principale, come vi avevo detto, ci sarà anche un tributo al cinema italiano con un momento di condivisione e ci saranno queste proiezioni al cinema equo, a questo cinema ritrovato a Vikequenz, dove saranno omaggiati i grandi registi italiani da Bertolucci a Sorrentino, passando per Andò, Genovese, in collaborazione con Medusa. Poi c'è anche lo Young Film Factory, che premierà il miglior cortometraggio, pensate, realizzato in 72 ore durante il Social World Film Festival. Quindi durante il Social World Film Festival ci sarà la possibilità di girare questo cortometraggio e in pace c'è un premio di 1000 euro e anche la possibilità di andare al Festival di Cannes. E poi un'altra cosa sicuramente importante che prosegue la collaborazione con Rai Cinema, che oltre a mettere a disposizione un premio in denaro per l'acquisto dei diritti del cortometraggio, cortometraggio. Una cosa bellissima è che tutte le opere che sono state selezionate per la categoria città del cortometraggio avranno la grande opportunità di essere visibili sul canale web di Rai Cinema durante il Festival. Quindi insomma, c'è veramente tanta carne al fuoco. Che meraviglia! Come fare per partecipare? Bisogna prenotarsi, ingresso libero, ci sono degli eventi a pagamento, altri liberi? Dacci qualche indicazione, perché magari qualcuno che ci sta seguendo è interessato a venire a Vico Equenze. Ricordiamo, si parte il 30 giugno fino al 7 luglio, sette giorni pieni di cinema. Allora, sul nostro sito è tutto molto chiaro e semplice. Sia come vi dicevo, i giovani dai 10 ai 35 anni possono ancora candidarsi per prendere parte alle attività. Quindi Masterclass Workshop o anche l'incontro con gli artisti. Cioè loro oltre ad avere la possibilità di partecipare a queste Masterclass e a questi workshop incontrano gli artisti, potranno parlarci. E anche per partecipare agli eventi serali, tutti gli eventi sono totalmente gratuiti. Basta andare sul nostro sito nelle varie sezioni e sarà semplicissimo prenotarsi tramite appunto il sito. Tutte le attività sono prenotabili, a tutte le attività si può partecipare in maniera totalmente gratuita. Tra l'altro quest'anno ci sarà anche un corso per i giornalisti sul giornalismo sportivo, dove parteciperà anche il presidente dell'ordine dei giornalisti della Campania, il presidente Nuzzo, il critico cinematografico Alessandro Savoia. Insomma, c'è di tutto, è tutto gratis. Basta andare sul sito, consultare il sito e lì potete trovare tutto e sarà tutto molto semplice. Bene, allora grazie a Gennaro Bianco. Social World Film Festival, la Vigo Equenza, la mostra internazionale del cinema sociale. Ecco, stiamo vedendo grazie anche alla nostra regia il sito internet. E appunto parliamo di Vigo Equenza, questo posto meraviglioso della penisola sorrentina. Grazie e buon lavoro a tutti, perché immagino che il festival si sta per avvicinare. Manca pochissimo, quindi sarete molto impegnati e sicuramente coinvolti in questo importante appuntamento cinematografico. Grazie per aver trovato il tempo, per averci dedicato un po' il vostro importante tempo. Grazie a Gennaro Bianco. E allora, da Vigo Equenza, prima di andare in pubblicità, o magari prima ci fermiamo e poi restituisco la linea a Nicola, facciamo in questo modo, andiamo prima in pubblicità e poi ancora notizie. Facciamo così, linea alla regia e poi di nuovo insieme. Grazie.